Cento spagnolo, non so perché, forse parli con dei chicos... È colpa di Pau? No, mia sposa. Ah, mia sposa! Ah, vedi? Latina. Ah, che è claro. Sarà sempre un posto che sarà vicino al mio cuore, sempre. Quali sono le città dove hai vissuto? Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia? La prima città è Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e poi Reggio Emilia. E hai mantenuto un po' di amicizie di quegli anni? Sì, era un po' più difficile per me, perché io sempre sto lavorando, però amici in Reggio Emilia, perché Reggio Emilia è l'ultima città, 12-13 anni, ricordo un po' più di miei amici che Rieti o Calabria. Chiaro, chiaro, direi molto piccolo. Tanti messaggi da Reggio Emilia. Sì, sì, tu a Reggio Emilia sono convinti che tu sia nato lì. Sicuramente uno dei messaggi sarà una delle mie maestre che sta dicendo, ma questo qua non ricorda niente di quello che l'ho insegnato. Davvero! Davvero!